Ciao a tutti, in questo video vorrei parlare del conflitto tra l'uomo e la donna, tra il maschile e il femminile. La dualità è la caratteristica che è, sul quale si basa l'essere umano, il positivo e il negativo, la luna e il sole, l'estate e l'inverno, la bellezza e la bruttezza, l'amore e l'odio, così come l'uomo e la donna, il maschile e il femminile. L'uomo non può stare senza la donna, così come la donna non può stare senza l'uomo. Ma cosa succede? Tra i due poli c'è sia attrazione che repulsione, una non può sussistere, senza anche la rappresentazione dell'altro. Allora l'uomo cercherà la donna, così come la donna cercherà l'uomo. Ma nel momento in cui questi staranno insieme, dopo un po' di tempo, entrambi inizieranno a pensare, ad anelare, alla libertà di stare soli. E così quando lasceranno, dopo un po' di tempo non assaporeranno più questa libertà tanto desiderata. E quindi il desiderio di tornare insieme all'uomo o alla donna arriverà di nuovo e quindi si riuniranno. E così ci sarà un'attrazione e una repulsione, un'attrazione e una repulsione. L'uomo e la donna vogliono stare insieme ma nello stesso tempo vogliono stare separati. Una parte di noi vuole vivere per sempre con l'uomo o con la donna e l'altra parte di noi vuole stare soli. Ci sarà sempre un avvicinamento e un allontanamento tra l'uomo e la donna. E il conflitto è proprio qui. Il vero problema è proprio questo. Quindi questo avvicinamento, questo allontanamento tra l'uomo e la donna. Questo è il dilemma. Un saluto dalla Pink. Iscrivetevi al canale.